Ciao a tutti, mi chiamo Giulio e ho conosciuto Paolo Meola all'università. Mi hai chiesto di fare questo video per spiegare perché aiutare Paolo Meola. Innanzitutto perché è la persona che vorrei essere. Cioè, se qualcun altro mi chiedesse chi vorresti essere al tuo posto, io direi Paolo Meola. Perché? Perché io penso che Paolo sia un individuo migliore che conosca. E' caparbio, quando si mette qualcosa in testa continua, è persevera ed ha un grandissimo cuore. Io credo che meriti di essere aiutato perché ha fatto molto, si è impegnato e adesso ha bisogno che qualcun altro lo finanzi. Perché dovrebbe essere picchiato? Perché ha una faccia da schiaffi incredibile. Grazie a tutti. Bravo!